Giovanissimo, vent'anni Francesco, diciotto ancora, diciott'anni, tre, due, uno, vai Francesco Basta ai pari verticali, trattano ai pari verticali, chiudono a full, grande Franci Un applauso per questa skill fortissima Sposta le parole le pietà, vuoi commentare tu? Stacca una full, pressa anche lui, va Francesco, pulita anche la sua press, molto pulita, camminata in full Un applauso, all'esercizio, un esercizio difficilissimo, mi sembra facile, facile, facile 20 secondi per te ancora Francesco Non ti vedo, sali in temo, un tè dagli anelli e scendi in croce Croce per noi, un front 10 secondi per te Francesco Bella sbarra Oh up Dopotutto, chiuso, 3 secondi, 2, 1, chiude con due pullate Bella, bella sbarra Grazie 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 Grazie